Tenta di rapinare un anziano ed aggredisce, lui è la donna che lo accompagnava in manette una 26enne di Campobasso con precedenti legati alla droga. La condizione degli operatori, dei detenuti e delle carceri nelle parole di Aldo Di Giacomo, candidato alle europee, oggi un incontro dinanzi al penitenziario del capologo. Continua la protesta dei sindaci della Valle del Fortore che chiedono di migliorare le condizioni delle strade in maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Isernia ha un nuovo vescovo che succede a Monsignor Salvatore Visco, si tratta di Camillo Cibotti, originario di Casalbordino e fino ad oggi vicario della diocesi di Chietivasto. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Tieletti Molise. Come avete ascoltato dai titoli, apriamo parlando del fatto di un fatto di cronaca che ha cercato di rapinare un anziano di Campobasso dopo aver percorso con violenza. Lui è la donna che lo accompagnava. Per questo una 26enne del capologo è stata arrestata dai carabinieri e condotta nel carcere di Avellino. I dettagli in questo servizio. Aveva individuato la sua vittima nell'ufficio postale di Via Pietrunto a Campobasso mentre stava facendo la fila per ritirare la pensione. Poi, dopo che l'anziano preso di mira, riscosso il denaro ed uscito per rientrare a casa, lo ha pedinato fino a cogliere il momento giusto per entrare in azione. Così una 26enne del capologo, approfittando della strettoia di un vicolo del centro storico nei pressi di salita a San Paolo, è entrata in azione aggredendo con violenza prima la donna che accompagnava l'86enne, scaraventandola a terra e colpendola con calcio all'addome e alla schiena per renderla inoffensiva. Poi ha iniziato a spintonare l'anziano, prendendolo per la giacca, tentando di infilare la mano nella tasca interna per sottragli la pensione, fino a farlo cadere di peso. Le urla della donna aggredita per prima hanno allarmato i bottegai delle vicinanze e costretto la 26enne a darsi alla fuga, interrompendo l'aggressione. Poco dopo sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e di Carabinieri, che grazie ad una descrizione dettagliata della ragazza, sono riusciti a risalire alla stessa, già nota per fatti di droga alle forze dell'ordine. Raggiunta nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione la 26enne, è stata condotta in caserma e dopo le formalità di rito, trasferita nella sezione femminile del carcere di Avellino per tentata rapina per cosse e lesioni aggravate. Per il pensionato e l'amica che lo accompagnava a 15 giorni di prognosi, entrambi hanno riportato delle contusioni multiple. Un fatto di tale inaudita violenza sia stato affrontato in una maniera tempestiva, competente e sinergica da parte di tutte le componenti dell'arma di Carabinieri di Campobasso, in maniera tale che l'autrice di un fatto così efferato sia stata assicurata alla giustizia in tempi brevissimi nel miglior modo di assicurare le fonti prova per il fascicolo processuale. Il fatto di ieri segnala e induce a pensare che, come dico sempre io nelle rare occasioni in cui abbiamo il piacere di incontrarci, che non bisogna mai abbassare la guardia, perché soprattutto le persone più deboli della nostra società vanno continuamente assistite, vanno continuamente difese da tutti e da tutti. Notata movimentata a Campomarino, grazie alla segnalazione di un cittadino, i Carabinieri sono intervenuti in via De Gaspari, dove due malfattori stavano uscendo da una tabaccheria con la refurtiva. Entrambi alla vista dei militari hanno tentato la fuga, riuscendo a dileguarsi, ma abbandonando i tabacchi e i prodotti rubati. Successivamente riconsegnati al proprietario dell'attività commerciale. Due le persone denunciate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia nelle ultime ore. Si tratta di un 22enne del posto trovato in possesso a seguito di perquisizione personale veicolare di alcuni dosi di ascisce di un trentenne di rio Nero Sannitico, anche gli scoperto con droga, ma anche con merce rubata per il valore di 3 mila euro. Il giovane custodiva infatti nella propria abitazione due canoide e altre attrezzature professionali asportate giorni prima da una struttura privata nella periferia del centro pentro. Detenzione illegale di stupefacenti e ricettazione, questi intanto i reati contestati dai militari che stanno ora cercando di capire se i due siano dediti pure allo spaccio o se il trentenne abbia commesso già altri furti. La questione carceraria in Italia, la situazione difficile in cui versano gli operatori, le strutture e i detenuti nelle riflessioni di Aldo Di Giacomo, candidato all'Europea per l'Italia dei Valori. Le sue riflessioni in merito questa mattina nei pressi della casa circondariale di Campobasso. Alcuni numeri della cosiddetta questione carceraria in Italia sono davvero molto significativi. 29 suicidi dal 2000 ad oggi, solo nell'ultimo anno, sono diventati 8 gli agenti carcerari che hanno deciso di chiudere con la vita, spesso dopo la subitole e terribile malattia della depressione. Ancora tante le evasioni, a volte perfino da luoghi di detenzione, classificati di massima sicurezza, nel complesso di una situazione giudiziaria dove la lentezza dei processi ci porterà a subire, come nazione, salatissime multe dall'Europa. Il tutto dove si susseguono proposte che sempre più rinviano le soluzioni, in un contesto che parla di 180.000 prescrizioni l'anno e di piccoli indulti mascherati che tirano fuori tante persone destinate nei tempi brevi a rientrare. Questo e tanto altro nelle riflessioni pubbliche che stamattina, davanti alla casa circonderale di Campobasso, ha voluto esternare Aldo Di Giacomo, già dirigente nazionale del SAP, il sindacato degli agenti penitenziari che oggi si candida alle elezioni europee per l'Italia dei Valori. Sono dieci anni e più, afferma, che si parla di questi problemi, ma le soluzioni sono ancora lontane. Intanto le strutture diventano sempre più invivibili, i detenuti e gli agenti si suicidano e niente sempre a ricondurre né agli ambiti di giustizia e di civiltà. Una sollecitazione ad agire al più presto soprattutto per velocizzare i processi che viene richiesta al Presidente della Repubblica che spinga che si possa costruire una strada nuova nella gestione delle condizioni interne al comparto in una Italia che sembra in questo davvero ancora in forte ritardo. Ed in vista delle europee, a Campobasso è giunto Stefano Bonaccini, segretario PD dell'Emilia Romagna. I dettagli in questo servizio. E' Stefano Bonaccini, segretario PD dell'Emilia Romagna, responsabile nazionale degli enti locali del partito, la guest star dell'incontro che ha visto riuniti tutti i candidati del PD, incontro nel quale il più stretto collaboratore di Renzi si è soffermato in particolare sull'appuntamento delle elezioni europee, nella speranza che il voto porti ad un cambiamento in Europa dopo una stagione fondata sull'austerity, in quello che si annuncia come un derby tra la rabbia e la speranza, noi siamo quelli che puntano sulla seconda. Abbiamo bisogno a livello nazionale di un paese che torni a essere rispettato in Europa e protagonista di una fase nella quale dalla crisi ne usciamo facendo leva sulla speranza. Il prossimo, come ha detto Renzi l'altra mattina di direzione, sarà un derby tra rabbia e speranza. Noi vogliamo interpretare la speranza di un paese che ha tante risorse e che vuole provare a uscire dalla crisi e ad essere protagonista anche di un cambiamento in Europa dove dobbiamo uscire da una stagione che ha puntato sull'austerity, sul premiare la rendita e la finanza e tornare a premiare il lavoro, l'impresa e gli investimenti. E poi bisogna cambiare qui perché qui possiamo tornare ad essere protagonisti e le due sfide principali di Campobasso e Termoli sono sfide molto rilevanti e importanti. Sindaci della Valle del Fortore continuano a protestare per le condizioni stradali chiedendo anche maggiori attenzioni da parte delle istituzioni. Il servizio. La necessità di tutelare le direttrici che collegano il Molise alle altre regioni, in particolare con la Puglia, il sempre costante degrado che subiscono le realtà che si affacciano sul versante del Fortore, ma soprattutto l'esigenza di rilanciare a pieno titolo quelle che sono le eccellenze di queste realtà che subiscono il disinteressamento dell'istituzione. Sono alla base della manifestazione di protesta che ha visto scendere materialmente in strada e manifestare apertamente alcuni sindaci della Valle del Fortore, i quali, con tanto di fascia sindacale, hanno fatto sì che la protesta prendesse corpo e desse un segnale di attivismo. Come molti tratti, purtroppo, delle strade molisane, anche statali, non abbiamo più una manutenzione, ma soprattutto non abbiamo più un'intelligenza di programmazione, per cui succedono morti o incidenti anche non mortali, ma molto gravi, che chiaramente devastano famiglie e rendono tutti noi dolorosamente come comunità partecipi di questi lutti e basterebbe un impegno finanziario, una progettualità adatta e una modifica di alcuni di questi tratti, come quello dove stamattina abbiamo manifestato con gli altri sindaci, su iniziativa di cittadini volenterosi, che chiedono semplicemente di andare al lavoro, di vedere i propri figli che vengono nelle scuole di Campobasso transitare con sicurezza. È una protesta giusta, è una protesta che però è anche una proposta. Mettiamo in atto quelle poche cose che servono, lì c'è un progetto che va ultimato, delle curve che vanno eliminate grazie a un tracciato nuovo, un asfalto drenante che elimina nei giorni di pioggia il pericolo fortissimo al quale tutti andiamo incontro, molto spesso anche di chi non conosce quella strada, perché noi, ahi noi, ormai siamo edotti rispetto ai rischi mortali che ogni giorno percorriamo nei tratti del fortore fra la Puglia e il Molise e che invece molto spesso altri che non conoscono si trovano a dover fronteggiare. Tutto questo non merita il nostro territorio, il territorio non merita davvero rispetto come le vite umane. Dare in concessione terreni agricoli confiscati alla criminalità organizzata a giovani che non hanno compiuto 40 anni e che abbiano la qualifica di coltivatore diretto di imprenditori agricolo professionale secondo le modalità e le misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e quanto prevede la mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico della Commissione Agricoltura del Senato. Con questa mozione, affermano i cofirmatari Francesco Scalia ed il molisano Roberto Ruta, si impegna il governo nella lotta senza quartiere alle agromafie, alla contraffazione per la tutela del MED in Italy. Bisogna adottare tempestivamente ogni azione di contrasto perché questo fenomeno è in rapida espansione. Organizzato dal Consorzio di Libere Intese, il convegno a Campobasso sui dieci anni di amministrazione di sostegno al quale hanno partecipato tantissimi operatori del settore. Una riflessione complessiva in compagnia di esperti amministratori di imprese e di enti pubblici. Un convegno decisamente interessante, quello che pone al centro una riflessione complessiva su tutto ciò che ruota attorno al cosiddetto sostegno sociale. Lo ha voluto ed organizzato a Campobasso il Consorzio di Libere Imprese, chiamandolo appunto dieci anni di amministrazione di sostegno, spalmando in due giorni gli interventi di numerosi esperti del settore, oltre che titolari, amministratori ed operatori dei percorsi socio-assistenziali. Presenti anche alcune figure istituzionali. Noi abbiamo sentito Michele Petraroia, assessore regionale alle politiche sociali. Non c'è un trasferimento di risorse ad esempio dallo Stato alle regioni e magari in questo caso la regione non adottando la normativa ha precluso questo diritto e questa opportunità sia ai cittadini che versano in quella condizione di fragilità e sia nei confronti delle persone che evidentemente possono e vengono nominati come amministratori di sostegno. Nel momento in cui c'è la legge quadro nazionale, il Molise sicuramente dovrà adoperarsi per recepirla e come abbiamo fatto con il recepimento della legge quadro sulle politiche sociali, la 328 del 2000, andremo a recepire e a contestualizzare nel nostro ordinamento regionale anche questo provvedimento. Sta di fatto però che per un verso non è che si può sostenere a Roma che alle regioni non bisogna più trasferire i fondi e poi venire sul territorio magari da Trieste o da un altro posto e si rivendica che le regioni dovrebbero trovare le poste in bilancio per soddisfare tutte le necessità e tutti i bisogni. A me mi pare che in qualche caso c'è un elemento quasi di schizofrenia, qui ci dobbiamo mettere d'accordo. Le regioni non servono e chiudiamole. Ci sia qualcun altro ad occuparsi delle fragilità e dei problemi, ma questo o qualcun altro non ha necessità soltanto della legge. Poi ci serve anche il capitolo di bilancio che finanzia quella legge e si deve capire da dove vengono fuori le risorse per assicurare i benefici alle persone che si trovano in difficoltà. Il Comune di Iserni ha presentato il Parco Canile Comunale. La struttura che verrà inaugurata sabato mira a diffondere una nuova concezione di canile, quale punto di accoglienza in grado di riabilitare l'animale e prepararlo alla futura adozione. Vediamo. Il Comune di Iserni ha presentato il Parco Canile di Contrada Valle Soda che sarà inaugurato sabato prossimo 10 maggio. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa in cui l'assessore municipale a ramo Marco Amendola, il sindaco Luigi Brasiello e il dottor Claudio Di Ludovico del servizio veterinario dell'ASRAM hanno illustrato le novità e le peculiarità della struttura sia da un punto di vista funzionale che formativo. In particolare il membro dell'esecutivo di Palazzo San Francesco ha spiegato i dettagli dell'iniziativa. Si tratta di un parco canile, è un'iniziativa che è nata con la scorsa amministrazione e che noi in questi 10 mesi abbiamo completato dal punto di vista anche strutturale. Credo che la vecchia concezione di gestione del canile che si occupava prettamente dell'aspetto di protezionismo e dell'aspetto sanitario, oggi credo che questa nuova apertura nel parco canile debba portare un valore aggiunto. Il valore aggiunto significa quello di recuperare il cane e soprattutto fornire gli strumenti di sostegno per l'adozione. Questo lo faremo ovviamente in accordo e con la gestione collegiale di tutte le associazioni animaliste presenti sul territorio in modo che il parco canile possa diventare veramente uno strumento per l'adozione ed essere vicino all'amante dell'animale, a chi ha intenzione di prendersi cura e adottare un cane. Dal punto di vista sanitario e dal punto di vista strutturale è una struttura importante perché ha un'area dedicata ai box sanitari, ci sono aree di sgammamento e nasce nell'area più panoramica e più naturalistica della città di Sernia in zona di Valle Soda. E noi all'interno di questa struttura sabato alle ore 10 faremo un convegno proprio per migliorare anche la cultura del rispetto degli animali e soprattutto favorire l'integrazione uomo-cane. Il sindaco Brasello ha poi annunciato come l'intento del comune sia quello di aprire il canile qualche volta al mese e anche nei giorni festivi al fine di consentire le visite di coloro i quali sono intenzionati ad adottare un animale. Poi l'anticipazione è che si tratta di una prima opera inaugurata al fronte di almeno altri 4 progetti ai nastri di partenza. E' stato ufficializzato alle 12 di questa mattina a Sernia a un nuovo vescovo che succede a Monsignor Salvatore Visco. Si tratta di Camillo Cibotti, originario di Casalbordino e fino ad oggi vicario della diocesi di Chietivasto. La sua nomina è stata ufficializzata dalla sala stampa vaticana. La cerimonia di consacrazione a vescovo è fissata per l'11 giugno. Poi Monsignor Cibotti giungerà ad Isernia il 28 giugno successivo pronto per accogliere il 5 luglio Papa Francesco. Alternanza scuola-lavoro e legalità ed impresa. Gli studenti del liceo scientifico di Isernia impegnati in una doppia iniziativa hanno presentato i risultati dei progetti formativi condotti durante l'anno scolastico. Michele D'Alessio ha intervistato docente e dirigente scolastico dell'Istituto Majorana. E' un progetto doppio. E' la sintesi del progetto alternanza scuola-lavoro e del progetto legalità, staffetta di scrittura creativa che quest'anno il liceo scientifico Majorana ha voluto coniugare e ha voluto coniugare mettendo insieme la realizzazione di un prodotto con l'oggetto della scrittura. In questo caso la scrittura è stato un tema attinente alla legalità e alla cittadinanza attiva, mentre il prodotto è una t-shirt con la scritta vivi illegalmente con una croce. Ce la fa vedere? Certamente. La maglietta in questione è da me indossata, come sarà indossata in questa circostanza dal dirigente scolastico e dagli studenti che hanno preso parte al progetto. Questa maglietta in pratica verrà poi anche portata all'interno del Salone Internazionale del Libro di Torino, dove noi ci richieremo per presentare un dizionario della legalità, alla cui redazione abbiamo concorso redigendo la lettera N di questo dizionario, in uno con altri 19 istituti d'Italia. Preside, come capo dell'istituto lei dà il buon esempio? Ma sì, perché poi i ragazzi mi hanno coinvolto facendomi mettere la maglietta che è il frutto del loro lavoro, del percorso che hanno fatto. Mi sembra doveroso che il dirigente scolastico sia il primo a doverla indossare. I ragazzi sono stati attori, sono stati ideatori e nello stesso tempo hanno tirato fuori questo prodotto che speriamo venga accettato positivamente da tutti. Io ho seguito i ragazzi in un progetto di inserimento nel mondo del lavoro, abbiamo fatto una parte molto teorica e poi abbiamo iniziato a fare questa parte pratica, quindi abbiamo simulato la realizzazione di un prodotto commerciale e artistico. Io sono anche proprietario del marchio riavviamento che si chiama Vestiti di Poesia e quindi insieme a loro abbiamo progettato queste magliette per questa giornata mondiale sulla legalità. La grafica è sempre dei ragazzi che l'hanno strutturata, l'hanno studiata insieme e quindi insieme siamo riusciti ad arrivare a questo prodotto tramite Vestiti di Poesia, questo percorso che abbiamo seguito durante l'anno scolastico fino ad oggi che gli dovrebbe aiutare o comunque dargli degli strumenti per poter inserirsi nel mondo del lavoro. L'esercito italiano festeggia il suo 153esimo anniversario, oggi un incontro al comando Mulisse e a Campobasso il servizio. Cerimonia per il 153esimo anniversario della Costituzione dell'esercito italiano, oggi a Campobasso. Questa mattina la visita della tomba del parale Sandro Di Lisio caduto in Afghanistan nel luglio del 2009 con la deposizione di un omaggio floreale, poi la lettura dei ceni storici sulla Costituzione dell'esercito e dei messaggi inviati dalle autorità superiori. Infine il saluto del comandante Tricarico e la conferenza con gli interventi del colonnello Tirone e del professore dell'Università Molisana Scillitani. Per tutti i caduti molissani nelle missioni all'estero è stato osservato un minuto di silenzio, poi spazio alle attività dell'esercito nel 2013, anno in cui sono stati registrati interventi per casi di pubblica incolumità ed utilità, a sostegno di popolazioni di regioni alluvionate, sgomberati in genti quantità di detriti e distribuiti oltre 6.000 quintali di aiuti di prima necessità porta a porta. L'impegno ha riguardato anche la tutela ambientale con la bonifica di oltre 2.000 residuati bellici e la rimissione di oltre 8.000 ordigni di vario tipo, un appuntamento dal carattere anche storico con riferimenti al centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale Per l'occasione inoltre è stata allestita una mostra di uniformi storiche e di fotografie a tema con immagini sulla storia e le attività dell'esercito Oggi alle 17 nella sede CISL di Campobasso l'incontro alle troppe incognite imposte presente il segretario nazionale Bruno Pinto Ed ora passiamo alle previsioni del tempo Tempo stabile e parzialmente soleggiato oggi sul Molise Le temperature sono comprese tra i 10 gradi la minima di Campobasso e 20 la massima sui Serni e Termoli Adriatico centrale poco mosso, ventilazione debole settentrionale dalla sera cielo stellato Sulla regione domattina il cielo si presenterà con molte schiarite I valori climatici sono attesi in ulteriore aumento I venti ruoteranno dai quadranti nord-occidentali Alle 17.30 di oggi alla Biblioteca Albino di Campobasso la prima iniziativa del cartellone nazionale del maggio dei libri 2014 L'incontro sarà dedicato a Lina Pietravalle con scritti di Renato Lalli e Gabriella Iacobucci Il secondo appuntamento è invece previsto per il 15 maggio Bene, con questa notizia si chiude il nostro telegiornale Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime edizioni Arrivederci Grazie a tutti